Ciao! Allora, come abbiamo detto questo qui è un pezzo che l'abbiamo creato con delle tavole. Questo qui è il flottaggio in fondo al mare. Si chiama così perché riguarda il mare e si fa il flottaggio con queste qua. Ci sono dei disegni, delle cose. Da una parte liscia. Se metti quella luta allo strano in su, praticamente ci metti un foglio sopra, disegni, ci fai con un colore sopra e ve ne conforma. Questo qui si fa così per fare il contorno e si può trasformare in qualcos'altro. Non vivo che dalle a volte in una coperta. Allora, questa è la bocca. Poi qui ho fatto un naso da pagliato, anche se devo essere rosso. Questi sono gli occhi, le ciglia e dove trovare i capelli. Ho fatto una busta con i pezzi di un puzzle enorme. Ci possono fare le costruzioni con i pezzi con i pezzi. Si può fare la torre. Chi la fa cadere per prima ha perso. l'ho chiamato super mare perché riguarda il mare e ci sono tanti pesci. Uno squalo, una focca, una focca, un po' e il pesce di una. Ho preso questo pescettino per fare la melusa. L'ho messo qua e poi l'abbiamo ripassato e dopo l'ho tolto. Ho fatto il mare con i pescettini. il mare con i pescettini. La barca su gran mare. Grazie. 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 Grazie.